Voi come usate copiarci? Noi? Siamo quelli nuovi. Voi invece siete quelli vecchi? Eh, però intanto prima che abbiamo un massacrato. Ora vediamo chi è che verrà massacrato di botte. Ah, se lo sapevo. Cosa dicevi? Ragazzi, fatelo. Nooo... Ciao. Mi fatto niente. No, ma io, ora si è fatto male. Io penso che quando mi sia divertito, però le mie gambe non stanno tanto bene. Eh, mi devo curare le gambe. Forse le curerò anche, ovviamente ci proverò. Sì, però provaci. Cos'è al momento di ucciderli? E poi tu, Apple, farai tutto il resto se noi dovremmo perdere. Oh, è ovvio che voi dovreste perdere. Oh, è ovvio che voi dovreste perdere. Oh, ho fatto male però comunque. Non ce la farò. Oh, io vado fuori servizio per un po'. Bene, me ne occuperò io. Corn control. Withered Corn. Bene. Oh, ti ho atterrato. Non proprio. Cosa vuoi fare, sentiamo. Cosa vuoi fare, sentiamo? Cosa vuoi fare, sentiamo? Cosa? Sì, ho ucciso il vostro corpo, ho ucciso anche te. No, per tutto quello che ho fatto. Oh, è il mio tour. Ah, no. Ora il mio tour. E... Riesco ancora a guardare le carte anche da... Anche se sono seduti. Oh, no, no. Oh, no. No, cavolo. un un concorso ricordo che sono quello più forte mi curo solo perchè se quello più forte a quanto dici e ora addio no addio il corno eeeh pensalo io ero signor a terra mi hai davvero stancato lo sai si io farò rinascere i miei amici sei tu quello che non capisce niente oh perchè sono ancora in vita anch'io sono in vita sono giusto no tu sei cattivo ok ok mi senti anche a me quella medicina quindi voi brutti ora avremmo una mega sfida Non posso non sentire con me. rimasti solo volete perdere per caso se facciamo vedere a questo bambino wow sta rotando perchè no non devo essere cambiato invece si ora si deve essere cambiato e ora noi ti uccideremo prima inizio non ti permetterò mai più sei un tipo davvero forte ma non così tanto lo sai salto mega temporale e vai sei esploso no tutti morti no no chi ha detto no sono apple quello è il migliore sono il migliore però adesso non mi ucciderà è il migliore è il migliore è il migliore